Ciao, sono Rocco Argentiero, ormai parecchi mi conoscono sotto l'aspetto delle gincane. In via proprio eccezionale, con un sacrificio enorme, siamo riusciti a fare l'ultima prova del campionato gincana Puglia a Villa Castelli. È stata voluta fortemente dai concorrenti e dai amici di Villa Castelli. Con sacrificio e con impegno siamo riusciti per domenica 30 novembre a portare avanti questa manifestazione. Cerchiamo di esserci un po' tutti e speriamo che il tempo ci accompagni. È una giornata di divertimento che poi tutto si effettuerà in Viale della Repubblica a Villa Castelli. Dopodiché il 14 dicembre abbiamo la premiazione del campionato gincana. Detto questo, un bocca al lupo a tutti i concorrenti, vi aspetto tutti a Villa Castelli. Ciao!